Finalmente si è arrivato, tanta gente hai trovato, che siano tante le donzelle, che siano tante, pure pelle, ma la notte principale è che siano anche maiale. Una buona oratoria dovrai notare, altrimenti sarà il cartello per te a parlare. Vai e convinci una ragazza e se tu te non fai tua piazza. Hai capito che devi fare?